Andra Battilana Gutierrez è una modella italfilippina e anche lei è tra le donne che compaiono nello scandalo sessuale legato al produttore americano Harvey Weinstein. La modella ha partecipato a Miss Italia nell'edizione del 2010 e il suo nome è finito sui giornali per essere stata una testimonia dei festini di Arcore. Proprio in quell'anno, quando era 18enne, Ambra è stata infatti coinvolta in un episodio durante una cena che ha poi raccontato in un interrogatorio, spiegando cosa accadeva durante i celebri Bunga Bunga Party. Ora il suo nome ritorna agli onori della cronaca. Nel 2015 si trovò infatti in compagnia del produttore americano Harvey Weinstein, nel corso di un'operazione sotto copertura, dopo la denuncia della modella, la quale sosteneva che Weinstein l'avrebbe palpato il seno durante un incontro nel suo ufficio al Tribeca Film Center. L'audio, ottenuto e pubblicato dal New Yorker, è una registrazione della conversazione tra la modella e il produttore americano, davanti ad un hotel a Lower Manhattan. Durante la conversazione, Ambra chiede a Weinstein per quale motivo lui le abbia toccato il seno. Oh, scusa, mi dispiace, lo faccio sempre. Sono le parole dell'uomo. Parole che potrebbero sembrare una sorta di ammissione di colpa, anche se non abbastanza da poter incriminare quello che è stato definito come il re di Hollywood.